Già fatto due su due l'azione precedente qui, molta pressione E non entra il primo libero Uuuuh di tutti i giocatori disponibili per fare questo qui Meglio lui che chiunque, ok? Se fa questo, allora ha ragione E su due Ivanovic a voler questo E il secondo entra, ma con tanto aiuto da parte del Ferro Meno due per il Cacalaboral, ultimo possesso, sette secondi Tempo, non posso far fallo? Prigioni contro Grimao, il blocco da parte di Teletrovi Ce ne palla Prigioni, libero nell'angolo per il Parigi Oh! San Emeterio per la vittoria Fa le tre punti sulla sirena San Emeterio vince la partita per il Cacalaboral Fa le tre punti e della vittoria Con la pompa dall'angolo, travolto dai compagni Spaventoso, spaventoso Lui ha la faccia a Torvali, ma lui è molto contento per questa vittoria Una cosa strappata lì, è quella di Bilbao, sono stato di Cacalaboral San Emeterio, grandi azioni Cosa vogliono guardare qui? Gli arbitri vi vogliono verificare Credo se... Oh, tutta la vita Forse, forse anche se il piede era o no sull'arco, a me sembrava... Ah, una fine incredibile La palla parte sicuramente prima Ah, non ci sono storie qui Né sul stop lamp, né sul arco dei tre secondi Veramente una partita strepitosa Finita all'ubi Tempo scaduto, ok? La palla era in aria, ok? Fantastica partita da parte di tutte le due squadre Non giocato bene tecnicamente sempre, ok?